Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnala la chiusura per lavori del tratto tra Aglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio. Sempre verso Bologna c'è un chilometro di coda per lavori tra Valdichiana e Monte San Savino e ancora in direzione nord possibili disagi per un incidente al chilometro 285 tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con l'A11. Rimanendo in A1 ma in direzione Roma si segnalano due chilometri di coda per lavori tra Rezzo e Valdichiana. Spostandoci in A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!